Sindaco, allora, a memoria mia è la prima volta che succede una cosa del genere a Vailano. Che cosa pensa? Una cosa molto molto grave sicuramente, un rapino a mano armata a Vailano, probabilmente c'è stato qualcosa del genere che non lo ricordo, ed è un segnale sicuramente che dobbiamo fare coscienza di questa cosa. Anzitutto speriamo che per l'amico Roberto, il dipendente, che è stato colpito nel quadrante addominale inferiore sinistro, c'era un'arma a fuoco, fuori d'ingresso. Era una beretta, era un'automatica quest'arma. Però in condizioni mi sembrava di vedere quel poco, ho potuto assistere prima di partire l'ambulanza, era vigile, posso rassicurare, gli amici, era vigile. Quindi il sindaco ci conferma che c'è stata la ferita all'addome, insomma? Era vigile sicuramente, Roberto, speriamo adesso che non ci sono stati organi vitali particolarmente presi da questa cosa. Cosa dicono i carabinieri? Se non vi siano messi i sigili adesso faranno le loro indagini, guarda, daranno il sistema di sorveglianza e il video di sorveglianza. Sì, i dati sono attivati, cercate di capire subito quello che è successo, ringraziare questi sciagurati, speriamo che succeda il più presto possibile per darci più sicurezza a tutti noi. Grazie sindaco.